Scatta il conto alla rovescia per tornare in spiaggia. Nelle Marche la data è fissata al 29 maggio, intanto sono cambiate le linee guida che i gestori degli stabilimenti dovranno rispettare. La novità più importante riguarda la distanza tra lettini e sdraio. Se sistemati sotto l'ombrellone dovranno rimanere a un metro l'uno dall'altro e non più a un metro e mezzo, mentre se posizionati sull'arenile senza ombrellone la distanza passa da due metri a un metro e mezzo. In questi giorni però si discute anche sulle modalità di controllo e di utilizzo delle spiagge libere. A Fano verrà assicurata la piena fruibilità pur nel rispetto delle norme anticontagio. Invece la vigilanza della bagnazione sarà garantita dal comune attraverso un'associazione che ha vinto un bando e che avrà nove postazioni lungo il litorale fanese. Sì, le spiagge per quanto riguarda quelle libere ma anche quelle in concessione si stanno attrezzando per l'apertura. Fra l'altro abbiamo fatto la scelta di mantenere le spiagge libere sempre fruibili. Ci adegueremo alle richieste che vengono dallo Stato, dal Governo, dalla Regione per il distanziamento tra le persone potenziando la vigilanza che sarà anche a cura della protezione civile che quindi avrà il compito di vigilare, di informare e di mettersi in contatto nel caso in cui qualcuno non provveda a rispettare le regole con la Capitaneria di Porto e anche con la Polizia Locale perché noi pensiamo che le spiagge libere debbano essere sempre fruibili. Pensiamo che il comune comunque deve garantire per legge un distanziamento di alcune regole e quindi lo faremo senza andare a modificare la fruizione delle spiagge libere che appunto è sempre stata disponibile e libera per tutti. Il comune intanto sta provvedendo alla sistemazione e spianamento della ghiaia Sassonia e alle operazioni di livellamento nelle altre spiagge. Proseguono poi i lavori per le nuove scogliere all'altezza dell'anfiteatro Rassat ma si spera in una proroga fino al 10 giugno. La ditta che ha vinto l'appalto per le scogliere insieme ai sub fornitori ha già caricato la nave in Croazia con gli scogli che dovrebbero arrivare mercoledì notte per poi cercare celermente di scaricare gli scogli qui a Sassonia. Speriamo che la regione possa concederci anche una piccola proroga perché vorremmo finire i lavori, sostanzialmente c'è l'accordo anche degli operatori riconoscendo che queste opere, queste attività di difesa della costa sono fondamentali appunto per garantire non solo la tutela degli interessi legittimi privati ma soprattutto per garantire in questo caso la ricostituzione di una spiaggia libera molto importante. Al via anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie in zona Sassonia in particolare alla terrazza Belvedere. Oltre a fare la nostra parte sull'arenire cerchiamo di fare la nostra parte sulla passeggiata lungo il mare e per renderla ancora più gradevole a chi vorrà venire, fanesi e non, a passare qua le proprie vacanze oppure qualche giornata tranquilla.